Quando si parla di adozione a distanza, si pensa soltanto ad un bambino in pericolo di vita, che ha bisogno di una donazione immediata per sopravvivere. Ma adottare un bambino a distanza non è solo questo. Vuol dire anche sostenerlo ogni giorno nella sua crescita. Vuol dire donargli un'infanzia serena. Vuol dire dargli un'istruzione con cui potrà costruirsi un futuro. Adottare un bambino a distanza non vuol dire permettergli soltanto di sopravvivere, ma ridargli una vita e far sì che possa diventare grande. Scopri come fare su alice4children.it Grazie a tutti.